Come avete visto ci abbiamo messo 3 secondi per fare questa vendita, è stato molto molto semplice Non abbiamo riscontrato nessuna difficoltà ed in più abbiamo guadagnato un botto di soldi Bella a tutti ragazzi, io sono Adria e benvenuti in questo nuovissimo video di GTA Online Quest'oggi sono qui per farvi vedere come si guadagna tramite il nightclub Nel senso vi faccio vedere una vendita al massimo, quindi con tutte le cose al massimo nel nightclub Dove appunto si guadagnano veramente un sacco di soldi La cosa buona del nightclub è che guadagnate un sacco di soldi senza fare niente Nel senso che una volta che acquistate il nightclub mettete dei dipendenti a lavorare Dovete avere anche delle altre fabbriche annesse Ma quello ve lo spiego più nel dettaglio nel video del nightclub dove spiego come guadagnare soldi con il nightclub Se lo volete andare a vedere c'è il link qua sotto in descrizione, andatelo a vedere che lì praticamente lo spiego meglio Quest'oggi vi faccio vedere solo la vendita, quanto si guadagna con la vendita al massimo E soprattutto vi faccio vedere quante merci ci sono nella vendita al massimo Ma prima di iniziare mi raccomando se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale qua sotto Mi raccomando, veramente importante, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video E soprattutto lasciate un bellissimo like a questo video Cerchiamo di arrivare e superare i 500 like Ve ne sarei veramente molto molto grato E' l'unica cosa che vi chiedo in cambio di questi video Mi aiutate veramente tantissimo Quindi andate qua sotto, lasciate un like E per qualsiasi cosa, se avete dei dubbi, delle domande Fatemele qua sotto nei commenti e cercherò di rispondervi il prima possibile Bene, detto questo, io direi Andiamo subito qua Che praticamente vi faccio vedere effettivamente come funziona Intanto abbiamo trovato anche una chiavetta qui Del nuovo aggiornamento dell'autoraduno LS Che non è quello che volevo fare ma mi volevo sedere Prima di sederci la cosa che bisogna fare per fare una vendita del nightclub E' essere in una sessione online Per quanto riguarda la sessione online Non vi consiglio di vendere in sessioni online dove ci sono tante persone Più che altro perché potrebbero distruggervi il carico Al 90% dei casi succede Quindi fate attenzione Se non sapete come fare una sessione online pubblica da solo O anche quello sul mio canale, il video Quindi andatelo a vedere che ve lo faccio vedere come si fa E almeno così eliminate anche questo rischio Siete da soli in sessione E non avete problemi di gente che vi viene ad attaccare E a rompere le scatole mentre fate la vostra vendita Poi altra cosa Vi serve essere o CEO o MC Che potete fare tramite Seguroserv o Motorcycle Club Qui rispettivamente all'interno del menu interazione E io in questo caso faccio il CEO Perché lo trovo più comodo per fare questa vendita A questo punto ci possiamo sedere qui al computer E accediamo subito all'app di gestione Tramite qua riusciamo a vedere tutto quanto del nightclub Quindi la gestione del nightclub I DJ Ma anche tutta la parte della gestione del magazzino Che è quella che ci fa guadagnare i soldi Come vi dicevo dovete acquistare i tecnici Mi sembra che uno già incluso Poi gli altri li dovete acquistare Ed in più poi li potete assegnare a queste produzioni di merce Che però dovete praticamente sbloccare Acquistando il relativo business Per esempio prodotti organici Dovete acquistare la serra dell'erba Importazioni dal Sud America Dovete acquistare lo stabilimento della coca Eccetera eccetera Poi ci sono differenti cose Ma quello ripeto lo spiego meglio nel video Per quanto riguarda la vendita dei prodotti Si può vendere direttamente da qua Ci sono degli ordini speciali Che alla fine onestamente non vi consiglio di fare Vi danno un piccolo bonus Ma non è tutto questo granché In questo caso come vedete Io ho già guadagnato 4 milioni e 300 mila Con poche vendite Quante ne ho fatte? Però vabbè io generalmente le faccio Quando sto sui 200 mila 300 mila Perché faccio delle vendite più piccoline Però questa volta ho voluto aspettare Per avere tutta la merce piena Perché mi ero chiesto effettivamente Ma quanto si guadagna tramite il nightclub Facendo una vendita al massimo? Ebbene sì 360 merci equivalgono a 1.690.000 dollari Che è veramente tanto E considerate che io ripeto Non ho fatto nulla Per accumulare tutta questa merce Mentre io facevo altre cose in gt online I tecnici hanno fatto tutto da soli E questo secondo me è uno dei business migliori Se non avete voglia di stare qui e lavorare Fa tutto lui Dovete solo fare la vendita Quindi arrivate qui Trovate 1.690.000 da vendere Cliccate su vendi tutti i prodotti E vendete Ed è quello che faremo infatti anche noi adesso Quindi confermiamo E vi ricordo che da questo importo però Dovremmo scalare la parte di Tony Che si darà sempre una percentuale Quindi dopo vi faccio vedere effettivamente Quanto va in tasca a noi Ok eccoci qua Per quanto riguarda le consegne La cosa bella del nightclub È che c'è sempre solo un veicolo di consegna Che dovete acquistare E sostanzialmente una volta acquistato Ci sono tre differenti veicoli Il primo è gratuito Per fare le vendite piccole E gli altri invece Gli altri due Li dovete acquistare Io onestamente vi consiglio di acquistare Solo questo qui grande Di evitare quello medio E quindi praticamente vi fate O la vendita piccola O la vendita grande Questa perlomeno è la mia strategia Per evitare di spendere soldi inutilmente Tra l'altro qui come potete vedere Abbiamo anche un bonus Di consegna Che si è appena ridotto Che praticamente Si riduce nel momento in cui Andate a sbattere Contro altri veicoli Quindi fate attenzione A non fare danni Ecco abbiamo ridotto un altro po' Vabbè il bonus è piccolo Sono 9000 dollari Non è tutto questo granché Ma alla fine sono sempre Dei soldi in più Quindi meglio Cercare di prenderli Questi mi stanno rendendo La vita difficile Perché gli devo andare addosso Per forza Però per fortuna Non mi ha ridotto i soldi E come vedete Abbiamo 3 punti Da consegnare Il tempo della consegna Di 20 minuti Generalmente è lo stesso Per tutte le vendite E se siete in una sessione Online con altra gente Come in questo caso Che comunque Può essere anche poca gente Qui intanto abbiamo preso Anche questo E ridotto un altro po' Il bonus E non avete i nemici Che vi attaccano Non sempre ci sono i nemici Però a volte ci sono Sono un po' fastidiosi Quindi se li potete eliminare È meglio Tanto qui siamo quasi arrivati Al primo punto di consegna Come vedete Sono molto semplici Queste vendite da fare E soprattutto Ci vuole Poco tempo Ok siamo quasi arrivati Fatemi passare Non vi voglio investire civili Consegniamo i prodotti Come vedete La prima consegna È stata fatta E ci mancano solo Due consegne A questo punto Vediamo qual è quella più vicina Questa qui Ok E poi l'altra è lì giù Vabbè Sono abbastanza fattibili Considerate ripeto Che in 17 minuti Ce la fate Molto tranquillamente Anche se avete Altra gente Che magari vi infastidisce Tecnicamente Ce la fate A meno che non vi viene Uno con laser In quel caso Eh La vedo un po' dura Comunque Vi consiglio Di puntare Veramente tantissimo Sul nightclub Se ancora non Lo conoscete Come business Vi consiglio Veramente Di approfondire Il mio video Del nightclub Perché praticamente Lì Vi spiego Come funziona E quanto si può guadagnare Ed effettivamente Quanto si può guadagnare Con una vendita Lo state vedendo Anche con questo video Quindi raga Mi raccomando Approfittatene Perché secondo me È uno dei migliori business Soprattutto il miglior business Passivo Che esiste in GTA Online Quindi vi fate Vi fate veramente Un sacco di soldi Senza dover fare niente Ed è veramente bello Perché magari voi Vi volete fare Dell'attività Per conto vostro Volete giocare Con dei vostri amici Ma comunque avete Sempre bisogno Di un po' di soldi Magari Vi giocate tranquillamente Quello che dovete giocare Poi tornate E vedete Insomma Intanto lì Non so perché C'erano due coni Due coni a buffo Così per strada E Dicevo Praticamente Tornate qui Vi fate la vendita E vi fate i soldi Che avete accumulato Senza far niente Quindi la cosa bella È proprio questa Che dovete far solo Una vendita Tanto il bonus Si è ridotto Già a 7000 Chissà se arriveremo Con un bonus Al punto di arrivo A questo punto È la mia domanda Tanto qui siamo quasi arrivati Manca solo un chilometro Quindi veramente Poco tempo E tra l'altro Come potete vedere Raga In questo momento Sono a 134 milioni E 600 mila dollari Tutti fatti Giocando normalmente Infatti per chi mi conosce Da più tempo Lo sapete Io non uso glitch Non uso mod Gioco onestamente Quindi Anche voi Se volete fare soldi Giocando onestamente Non tramite glitch E mod Quindi rischiando Di essere bannati Tramite quelle cose Potete fare Quello che faccio io Quello che vi sto facendo Vedere io Che sia il nightclub O altre cose Sul mio canale Tra l'altro Trovate anche dei video Dove vi faccio vedere Come si fa In particolare Il video Su come fare soldi Nel 2021 Lo potete cercare Anche su youtube E lo trovate Intanto qui Siamo arrivati Al prossimo punto di consegna Questo albero Era indistruttibile Consegniamo i prodotti E manca solo L'ultima vendita Che dovrebbe essere Dall'altra parte Sì eccola qui Dall'altra parte del lago 4 km E abbiamo concluso Praticamente poi Automaticamente La vendita E ci portiamo a casa 1.690.000 Che poi effettivamente Vedremo quanto sarà Credo 169.000 E meno Perché se non mi sbaglio Tony si dovrebbe prendere Il 10% Ma questo poi Lo andiamo a vedere bene Tra poco E niente Di base è questo Quindi raga Più che altro Era per farvi vedere Che era veramente Semplice da fare Non è nulla di difficile Per cui Fatelo anche voi Mi raccomando Approfittatene Perché è veramente Uno dei migliori modi Per fare soldi in GTA Senza dover fare nulla Veramente Molto molto figo Ok qui intanto Superiamo anche questo E per quanto riguarda Le vendite Comunque come vedete Ci abbiamo messo 5 minuti Per fare due consegne Penso Ci metteremo massimo Altri due minuti Per fare questa Proprio esagerando 4 E comunque ci avanzano 10 minuti Poi di tempo Quindi Ce la potete fare Tranquillamente Anche voi Qui intanto Ho sbagliato Che volevo girare qui Però Sto coso per frenare Veramente ci mette Un botto E tra l'altro Potete anche Modificare questi camion Io ho deciso Di non modificarlo Perché alla fine Già va benissimo Così Potete Migliorare un po' Le performance Ma alla fine Alla fine Secondo me È un po' Inutile Anche per quello Vi dicevo Evitate il furgone Medio Perché alla fine Sono soldi buttati Ve li risparmiate E state bene così Insomma Ok Tra l'altro Fatemi sapere nei commenti Raga Sono veramente curioso Se già avete fatto Delle vendite Del nightclub Come vi trovate voi Col nightclub E almeno così Ci confrontiamo un po' Mi fate sapere Se vi piace il nightclub Oppure no E in caso Se non vi dovesse piacere Fatemi sapere anche perché Che sarei veramente curioso Di sentire altre opinioni Tanto qui manca Un chilometro e mezzo Praticamente Siamo quasi arrivati Manca veramente pochissimo E non abbiamo trovato Per fortuna Nessun intoppo Nonostante che ci sono anche Altri player Vabbè Uno è della mia crew Però gli altri due Non so sinceramente Chi siano E tra l'altro Mi sa sono anche Nel motorcycle club Insieme Quindi non lo so Avrebbero potuto Infastidirci Ma per fortuna Grazie al metodo Che ho utilizzato Per stare in sessione online Praticamente da solo Non abbiamo questo problema Ok Intanto manca Veramente poco Sì Le ultime due curve Eccole qua Facciamo questa curva Perfetta 6.000 di bonus Ancora Bene Intanto Salutiamo A PC E salutiamo Anche a Stai Che ci aveva scritto Prima Ciao raga Tra l'altro Vi ricordo Che se volete avere La mia richiesta Di amicizia Poter giocare Con me in live Vi potete abbonare Al canale Lo potete fare Sia qua sotto Premendo sul tasto Abbonati Oppure in alternativa Se avete Amazon Prime Potete abbonarvi Su Twitch Completamente gratis Senza dover pagare nulla E anche l'abbonamento Twitch Vi dà praticamente La possibilità Di essere abbonati Al mio canale E partecipare alle live Intanto qui Prodotti venduti Vediamo effettivamente Adesso quanto ci darà Credo un milione e mezzo Più o meno Se i miei conti Sono giusti Adesso uscirà Il resoconto Ah no in realtà Si è preso Meno di quello che pensavo Si è preso 100.000 Quindi abbiamo fatto 1.659.000 dollari Ottimo E abbiamo ricevuto Il bonus Di 6.000 dollari Pure Quindi vediamo un po' Siamo arrivati a 136.324.000 Veramente ottimo raga Come avete visto Ci abbiamo messo 3 secondi Per fare questa vendita È stato Molto molto semplice Non abbiamo riscontrato Nessuna difficoltà Ed in più abbiamo guadagnato Un botto di soldi Quindi tecnicamente Abbiamo guadagnato Nell'arco di questi 10 minuti 1.6.000 Praticamente Anche se effettivamente Dovete considerare Che dovete dare il tempo Di accumulare Tutta la merce Che comunque Un minimo di tempo Ci vuole Ma nell'arco di una giornata Penso che comunque Un bel po' di merce La accumulate E quindi vi fate Un bel po' di soldi Come vi dicevo prima Se volete giocare con me È appunto Partecipare nelle live Dove vi faccio Guadagnare dei soldi Facendo il colpo A caglioperico Altre attività Potete abbonarvi al canale Qui sotto In descrizione Oppure su Twitch Se avete Amazon Prime Se non avete Amazon Prime Anche quello Potete farlo gratis C'è sempre il link Qua sotto in descrizione E potete avere Amazon Prime Amazon Music Per 4 mesi Gratis E Kindle Unlimited Per chi gli dovesse Piacere leggere C'è anche quello Ci sono tutte e tre Queste opzioni È tutto gratis Vi fa un abbonamento Per 30 giorni Gratuito E poi se continuate L'abbonamento Si paga Ma lo potete disdire Quindi non pagate niente E vi fate un mese gratis E tramite Amazon Prime Avete sia Amazon Prime Sia l'abbonamento Al mio canale Quindi in quel caso Potete avere L'abbonamento gratis Al mio canale Questo è un piccolo Trucchetto Un piccolo escamotage Che vi dico Quindi se lo volete fare Qua sotto ci sono tutti i link Così come qua sotto Trovate anche tutte le informazioni Utili Sia per quanto riguarda I video di cui vi ho parlato prima E anche di tutte le altre cose Detto questo Io spero che il video Vi sia piaciuto Un video un po' più corto Del solito E alla fine era solo Da farvi vedere La vendita Quanto si guadagna Con una vendita Al massimo del nightclub E come funziona Spero vi sia piaciuto Qualsiasi dubbio Comunque vi ricordo Scrivetemi nei commenti Lasciate like raga Veramente importante E noi ci vediamo Nel prossimo video Da Adria è tutto Un salutone Bella Ciao raga